Giardina si è accassato alla Vibonese, Saraniti all'Agragas e Tiscione al Savoia. Il Città di Messina ha perso insomma almeno tre stelle e dovrà attivarsi al più presto per affrontare una quinta serie che si annuncia competitiva come mai era avvenuto nel recente passato per via dell'annunciato doppio salto nella C unica che fa gola davvero a tanti. La proprietà vorrebbe riaffidarsi a due degli artefici dell'ottima stagione d'esordio in Serie D, il direttore sportivo Cicciola Rosa e il tecnico Pasquale Rando, capace di mantenere un invidiabile record di rendimento nei suoi due anni e mezzo di gestione. I peloritani dovrebbero ripartire dalle conferme di giovani di prospettiva, peraltro cresciuti in casa nell'arco delle ultime stagioni, come il centrocampista Francesco Munafo, 94, affermatosi nel florido vivaio del Garden Sport e il portiere Ivan Mannino, 95, ex desport Gaggi. Ha perso lo status di under un elemento duttile come Giuseppe Cucè, 92, capace di ricoprire sia incarichi difensivi che mansioni nel reparto nevralgico. Da quest'anno sarà obbligatorio schierare un solo 93 nell'11 titolare e quindi dovrà essere valutato il destino del portiere Gianluca Di Salvi e del difensore rumeno Ciprian Florin Dombrovoschi, che non potranno più essere proposti contemporaneamente in avvio. Più complicato invece immaginare una permanenza del centrocampista Simone Bruno, ex ACR Messini a Cireale e dell'attaccante Santi Mangano, cresciuto nella primavera del Catania, che già nell'ultimo torneo hanno ottenuto scarsa continuità di rendimento per via della serrata concorrenza. Sempre a proposito di giovani, i previsti rientri dei prestiti dei difensori Alessandro Fracapane e Davide Nicolò e del centrocampista Pierpaolo Ricciardo, 3-94, che ovviamente dovranno essere testati in vista di un torneo decisamente più probante rispetto all'eccellenza che hanno appena affrontato con la nuova Igea raggiungendo la semifinale play-off. Grazie a tutti! Grazie a tutti!